Ciao a tutti ragazzi, io sono AWE, 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 AWE Quindi che dire? Nome? 20 22 22 Sei vergine? E' tetosessuale Io ho 46! Ti masturbi? 151 Così tanto? Bravo! Una volta mi sono fatto mio nonno AAAAAAAH AAAAAH 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 Io mi faccio una serie per te Cosa ti eccita Simone? devi averlo bello lungo Perchè sia gli uomini che alcune donne Trovano eccitante gli scogli, i fagioli Prima è la mia! No, la sentivo da un sacco di tempo questa malattia! Io non rispondo a questa domanda Va bene Cosa pensi del sesso orale? Agnello Mai praticato sesso orale? Io si Simone, ti piace sculacciare mio padre? Kebab Meta Cipolla Aglio Asciugamano Asciugamano Altre due Simo, altre due Cosa pensi delle donne? Acciughe Pasta al suro Semola E sufficini Ehi, dimmi Sei sola? Si, cioè Ok Quindi ragazzi che dir? Ovviamente mettete sul serio quello che abbiamo detto perché Ma è tutto vero Tutto vero Il 90% vero, il 10% vero Vi ricordo di raggiungere i... 40 like Bambini, fate sesso Noi per oggi abbiamo finito di lavorare Noi per oggi E niente Bene ragazzi Nooo 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 Nooo